Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video della serie Proviamolo, la serie in cui in anteprima testiamo un gioco per la prima volta insieme e oggi che è il 16 giugno 2022 esce ufficialmente, finalmente, Spaceship Trooper Terran Command. Ovviamente questo non è un titolo che vedete per la prima volta su questo canale perché lo abbiamo seguito anche nelle fasi di sviluppo attraverso la demo però sono contento di potervelo portare interamente. Questo è un video sponsorizzato e in questo video inizieremo a giocare una campagna che potremmo magari poi sviluppare, cosa dite, nel corso dei giorni e delle settimane. Come sempre io seguo i vostri suggerimenti, i vostri consigli, quindi lasciate like e commenti, noi clicchiamo su New Campaign e inizieremo la nostra campagna di Qualasha e la giocheremo a difficoltà media, penso, perché non voglio fare brutta figura. Allora, Spaceship Trooper Terran Command è un titolo RTS, quindi giocheremo in real-time strategy, ossia strategia in tempo reale, se volete ve lo traduco anche in altre lingue ma avete capito il concetto, utilizzeremo delle truppe futuristiche in un pianeta ostile che dovranno combattere contro degli insetti orrendi. Le truppe fanno parte di questo impero terrestre che ricorda un pochino i Marines americani, c'è un senso dell'umorismo innato in questo titolo perché si rifà anche a uno dei film che mi hanno fatto divertire di più durante la mia adolescenza, appunto, Starship Troopers. E se non sapete di che cosa si tratta, magari siete un po' più giovani di me, beati voi, andate magari a dare un'occhiata a che cos'è Starship Trooper, e magari vi trovate anche un'ispirazione per guardarvi un bel film. At least now! Sarà divertente friggere in settacci, ma adesso ci cuotiamo l'introduzione. La Dathu, a day that will live in infamy. But from tragedy springs hope, as the Federation rebuilds its fleet, bigger and stronger than before. To fuel this war machine, all eyes are now on Qolasha. Once an isolated outpost, this mineral-rich world has become a key part of humanity's battle for survival. But the planet's vital mining industry may now be in danger, after reports of bugs on the surface. And so the mobile infantry answers humanity's call. Adoro il tono del commentatore, molto trionfale, molto americano. Praticamente gli umani sono andati su questo pianeta per sfruttare minerali. Questi insettacci sono usciti adesso e adesso tocca a noi gestire la situazione, no? Alla guerra, alla guerra. Il gioco si struttura in diversi scenari. È un gioco single player, quindi potrete giocare contro l'intelligenza artificiale scegliendo appunto diversi livelli di difficoltà. E ad ogni scenario corrisponde un obiettivo di breve periodo, che poi viene collegato all'obiettivo di lungo periodo, che fa parte appunto della grande storia. Adesso guardiamo un attimo che cosa ci dice il nostro mega capitano... Guardate quanto è cazzuto, guardate che giuardo fiero. Perfetto. Allora questo è esattamente lo scenario che abbiamo giocato insieme durante la demo. Credo che nonostante noi possiamo dire che il gioco sicuramente è migliorato e cambiato, io credo che vi farò vedere soltanto alcune parti di questi in modo da potervi mostrare più di un aspetto. Quindi non vedrete tutte le mosse che faccio, ma in alcuni casi faremo qualche piccolo taglio. In questo caso... Ah, queste sono statistiche nuove, queste non le avevo viste. No, allora in questo caso vi faccio vedere. Perché iniziamo con dei Ralfa Troopers, che sono degli umani armati con dei fucili d'assalto morita, ok? E hanno anche delle granate, queste fanno un male cane soprattutto se si buttano nei buchi in cui gli insetti, scusate il gioco di parole, sbucano. Allora, qui vedete che c'è una sorta di posto di blocco. Noi usciamo da questo lato. Vedete che sì? Allora, partiamo, che abbiamo soltanto due unità, non abbiamo un edificio. Non abbiamo degli Harvester che devono prendere delle risorse per costruire i soldati. No, 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 no. È diverso qua. Gli edifici si occupano e le risorse vengono poi sbloccate attraverso delle meccaniche diverse. Cioè, non siamo alla Age of, in cui si parte raccogliendo il legno e poi si fanno gli arcieri. No, qui si parte e si ha già il gruppo di fuoco determinato dall'headquarter e voi dovete fare il lavoro sporco. Cioè, dovete gestire tatticamente la disposizione degli uomini sul campo. Vedete che se io premo sui Ralfa Troopers e li metto in una posizione, posso girare con il tasto destro del mouse, dare loro il posizionamento. E questo è fondamentale per un semplice fatto, vorrei potervi, anzi, lasciamo il gioco correre, intanto ve lo spiego. Se avessi messo i trooper qui dietro all'altro gruppo di fucilieri, questi non avrebbero potuto sparare per evitare il fuoco amico. Quindi la disposizione sul campo di battaglia, soprattutto quando le unità saranno molte, sarà un fattore chiave per non fare la fine del mangime per insetti. Qui invece vedete che le cose si mettono abbastanza bene perché li stiamo praticamente circondando. Se io volessi fare proprio il bullo, potrei lanciare anche una granata nel punto in cui questi si avvicinano. Ovviamente ho lisciato, ma non ditelo a nessuno. Ok. Bombardamento a tappeto. Megabarili di gasolio immagino lanciati a bruciare. Sembra Napalm, però a me piace immaginare il gasolio perché rende la cosa un po' più ignorante. Non mi piace avere l'uniforme dirty, ma questi bambari sono abbastanza utili. Il nostro mega chad supremo odia ovviamente tutto ciò che vola perché lui è fanteria e lui vuole sporcarsi di sabbia. Però in effetti se bombardano a me non fa schifo. Ok. Dobbiamo distruggere comunque tutti gli insettacci, gli arachidi. Gli arachnidi con la N perché gli arachidi si mangiano. Gli arachnidi meglio di no. Ah ok, qui mi dà le statistiche degli insetti che abbiamo appena distrutto. Spostiamoci qui nella zona che mi viene suggerita. Ah no, sembra proprio che questi insetti stiano sfuggendo. Vediamo che cosa succede se li inseguo. Eccoli. Stanno inseguendo dei civili. Ma cosa ci fanno dei civili qui? Ma scusate ragazzi, ma tornate a casa a giocare con la Playstation che è pericoloso. No, scappano. Vabbè, ma non è un problema. Infatti è ritirata tattica. Buono. Per lanciare la granata posso premere anche Q. Questo lo dico a me stesso. E adesso vedete che abbiamo trovato delle casse di munizioni. E in questo caso, secondo me, dovremmo essere in grado di sbloccare delle altre, delle altre unità forse. Vedete che le stiamo raccogliendo. Quando l'icona diventerà completamente gialla. Abbiamo catturato una munition cache. Perfetto. Queste sembrano casette di civili. Sono le loro macchine. Sono molto belle. Io un pensierino ce lo farei per una villetta schiera in questa zona. Ok, andiamo a scendere. Ah no, 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 no. Follow the road into the town. Devo salire. Facciamo un piccolo taglio. Ed ecco che i nostri amici, barbecue men, stanno facendo veramente un bel numero qua. Perché stanno bruciando con il lanciafiamme. Gli insetti che arrivano. E intanto noi qui li esponiamo. Vedete che quando questi... Questi attaccano corpo a corpo, per il momento. Quindi se riusciamo ad esporre i fianchi, non ci fanno troppo danno. E ora abbiamo finalmente anche i combat engineer, che ho chiamato barbecue men. Ma ci siamo capiti. Avendo un lanciafiamme, hanno un ottimo danno e un'ottima soppressione. Mentre nei chariot bug abbiamo anche i guerrieri. Ok, gli arachni guerrieri. Ok. Adesso dobbiamo catturare la radio station. Aspettate, mettiamo gli ingegneri avanti. I fucili accanto. Con questa disposizione penso che sia praticamente impossibile per gli insetti avvicinarsi a noi. Addirittura non entrano neanche nel raggio dei lanciafiamme. Perfetto. Allora, andiamo a catturare la radio station. Andiamo a catturare quest'altro garage. Garage. E gli altri tre magari si mettono qui all'ingresso della strada nel caso in cui qualcuno attaccasse. Non è che magari però devo mettere qualcuno anche a sud. Perché se arriviamo da sud... No, ok. Abbiamo il bunker. Reinforce or depleted rifle troops squad. Ok. Se io vado qui e metto le squadre ferite, ad esempio qui abbiamo dei fucili riferiti. Quindi se li metto nel bunker radio, posso chiamare rinforzi. Reinforcing units. Praticamente con la radio dicono, signori abbiamo bisogno di voi e dovremmo essere in grado di curarci. O perlomeno di ottenere nuove truppe. Per il cardio di aver ottenuto nuove truppe. Select rifle troopers to call reinforce. Questo è un rifle? No, questo è un rifle. Li seleziono tutti e poi premo F. E con F. Adesso andiamo a prendere i rinforzi. Ottimo. Benissimo. Person destroy all arachnids. Reinforce all depleted rifle troopers. Perfetto. Guardate, per farlo basta selezionare rifle, cliccare e poi selezionare la zona in cui si vuole che il pod rilasci le truppe fresche. Qui vedete che esce una truppa fresca e adesso le nostre truppe sono completamente reintegrate. Ok. Adesso andiamo a distruggere tutti gli altri arachidi. Ormai non riesco più a capire qual è il confine tra le mie battute orrende e la grammatica italiana perché mi sbaglierò sicuramente. Ma sembra che ci sia arrivato il momento di formare un perimetro per difendere la stazione radio. L'attacco arriva fra 30 secondi e arriva in questa direzione. Allora, per fare le cose per bene mettiamo i lanciafiamme ai lati. Qui mettiamo un rifle 1. Qui mettiamo un rifle 2 che attacca di qui. Io a questo punto il geniere lo metterei un po' più girato in modo che gli altri trooper possano sparare. Ci aiuterei praticamente i genieri ai lati e i fucilieri in mezzo. Scrivetemi nei commenti se secondo voi questa è la disposizione più efficiente oppure se secondo voi avreste fatto in un modo completamente diverso. Una cosa che io adesso faccio però è lanciare una granata qui. Perché queste granate ovviamente faranno gran danno. Le mettiamo tutte all'ingresso della nostra strozzatura. Che poi esplodono. E visto che i genieri tengono a bada con il fuoco questi arachnidi è andato abbastanza bene. Credo di non aver perso nessuno. E vediamo un po' se l'obiettivo è sistemato. Ok, l'area è più calda di quanto avessimo pensato. Ok, dobbiamo rientrare nella cittadella ragazzi perché ci sono troppi baccarossi. Quindi adesso dovremo farci strada sparando a destra e a manca per arrivare a nord alla cittadella in cui poi il culetto dei nostri soldati verrà messo al sicuro. Forza, andiamo. Durante il viaggio sto trovando delle casse di munizioni e quindi me le tappo. E ho anche diviso in gruppi di controllo uno e due i genieri e i fucilieri in modo da tenerli separati. Perché se adesso volessi tipo arretrare con i fucilieri e portare avanti i genieri non devo selezionarli con il mouse. Devo proprio semplicemente premere uno e due sulla tastiera. La meccanica è quella classica dei gruppi di controllo di qualsiasi gioco strategico. E adesso andiamo avanti. Siamo arrivati qui sopra. Ovviamente il benvenuto è sempre caldo e gentile come nella tradizione dei nostri migliori generali. Andiamo sopra perché secondo me qua se non ricordo male c'è una delle fasi più divertenti di questa missione. Quindi preparatevi, preparatevi. Survive the Ragnic Assault. Benissimo. Aspettate che cerco di mettermi in una posizione un po' più strategica. Ah, arrivano anche da dietro ragazzi, eh. Quali divido gli genieri? Ok, hanno aperto. Adesso, va bene. Entriamo nell'outpost. Non è stato un attacco pesantissimo. Infatti non ci siamo neanche feriti troppo. Adesso entriamo nell'outpost delta e vediamo che cosa ci dicono. Qui in alto a sinistra trovate sempre gli obiettivi. Abbiamo catturato il radio station, abbiamo confiscato tutte le munizioni e adesso dobbiamo sopravvivere all'assalto. E sarà un po' l'ultimo obiettivo. L'assalto dovrebbe arrivare da sud fra poco. Quindi fucilieri. Un gruppo di fucilieri lo chiamiamo gruppo 3. E adesso io non so dirvi se tenere i genieri sulle mura abbia un senso oppure no, ma lo scopriamo. Oh, ci sono anche quelli che volano. Questi meglio rome non li avevo visti prima. Granate ragazzi, granate come se non ci fossero un domani, per favore. No, certo che funzionano, certo che funzionano i genieri delle mura. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Ecco, parlavano del senso dell'umorismo. Tutti i feriti si cerchino un dottore, tutti gli altri si cerchino un drink. Benissimo. Ragazzi, abbiamo vinto la prima, la prima delle, degli episodi della campagna. Andiamo a vedere che cosa ci dice il gioco. Questo ovviamente è la missione iniziale, eh, che viene un pochino, anche strutturata quasi come un tutorial. Ottimo. Broadcast completed. Andiamo alla guerra. Cioè, andiamo alla campagna di, ehm, alla schermata della campagna. Allora, il comando è identificato numerosissime tane e indovina un po' chi ha vinto il lavoro di andarla a ripulire. Eh? Indovinate un po', dai, avete due secondi. Uno, due, noi, noi ovviamente. Noi abbiamo l'obiettivo di andarla a ripulire. E queste sono, queste sono le tane di Baccarozzi. Vi voglio mostrare, prima della fine di questo video introduttivo, come se li puliscono. Perché vi serve un po' un tutorial, come ripulire le tane di Baccarozzi. Comunque io continuo ad, ah, cioè, ad avere quasi un senso di ammirazione per gli umani che si sono messi a costruire ste case dal dubbio gusto nel mezzo del deserto. Sarà, immagino che siano i famosi minatori, però, ragazzi. Una casa normale, voglio dire. Vabbè, si vede che hanno bisogno di... avevano bisogno di sistemi di ventilazione. Ho sul passato perché, se avete visto chi li rincorre, ecco, avevo ragione. Allora, andiamo subito alla stazione radio, così ci portiamo a casa un po' di truppi in più. Spero di avere dei genieri perché sono la mia unità preferita, è inutile che lo possa, che lo nasconda. Gruppo 1. Ok, ci danno un altro rifleman, va bene. Use the high ground. Va, lo usa? Sì. Lo usa, lo usa. Io questa unità la metto di lato, sempre per avere del fuoco incrociato. Essendoci il terreno alto, non rischiamo di fare... di essere bloccati da questi trooper verdi dell'intelligenza artificiale. Dai, dai, dai! Andiamo a chiudere il buco, è inutile. Eh, andiamo a chiudere il buco. Forza! Perché finché rimaniamo qua a difenderci, questi continuano ad uscire. Funziona abbastanza bene questa tattica di una unità in avance coperta, che poi si ritira, mentre le altre coprono... Mentre le altre coprono e fanno danno. Adesso avanzare. Cioè, mi rendo conto che utilizzare tutte e tre le unità, come se fossero un'orda unica, paga meno rispetto che a muovere i manipoli. Ad esempio, adesso mando questi in avance coperta. Tengo quelli dietro, quell'high ground, così. Attiro gli altri baccarozzi, poi lo mando indietro. Ok, perfetto. E adesso potremmo... Possiamo dire che abbiamo a... Abbiamo sbloccato. Ok, grana... Continuano ad uscire, comunque. Finché non abbiamo portato a zero la barra, secondo me continuano ad uscire. Ah, dobbiamo proprio mandarci un'unità qui dentro. High clear. Benissimo. Non l'abbiamo fatto saltare in aria. Siamo proprio entrati e abbiamo bruciato le uova o cose di questo tipo. Bene, 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 bene. Ok, adesso... L'obiettivo di far fuori... Di capturare le altre quattro radio stations. Ok. A questo punto proviamo ad andare sulla strada e poi proviamo a tornare a questa stazione radio e vediamo cosa succede. Allora, mi sono fatto un po' strada tra bagarozzi di tutti i tipi, ma sono riuscito ad arrivare alla stazione. Quindi ne prendo il controllo e qui c'è un delivery platform. Ti prego, dimmi che mi mandi i geniari, dai che così divento felice. Questo che cos'è? Un supply de port. Quindi posso prendere delle risorse. Ok, abbiamo risorse per fortificarci, ci viene detto. Oh, select and deploy the support center. Fatto. Adesso posso chiamare i genieri. Che meraviglia. Gruppo 2. Ok. Devo piazzare delle torrette. Le torrette me le mettono i genieri? Sì. Le posso mettere qui. Com'è il E? Con la E posso piazzare una torretta. Attenzione, attenzione che c'è un guerriero. No, me l'ha buttata giù, mannaggia. Ok, una torretta è stata sistemata, l'altra la stiamo piazzando adesso. Comunque ne abbiamo tre. Abbiamo tre genieri. Non so perché, ne avevo chiamati due, ma ne ho un terzo ora. Ok. Adesso mi chiedo, se mi attaccano da questo lato, sono fritto, però. Arrivano. Metto anche dietro le mura. Vediamo se riesco a lanciare... Sì, con i genieri riesco a lanciare le granate incendiarie, che sono abbastanza sgrave. Ok. Ok. Sembra che abbiamo risposto alla prima orda. Potremmo andare a catturare le altre stazioni radio. E qui ci sono altre zone che dobbiamo ripulire. Insomma, signori, mi sembra che Spicehift Trooper Terran Command mi dimostri due cose. La prima è che è come me lo aspettavo. È stato ripulito, è stato reso molto più, secondo me, ricco. Le unità adesso sono anche grazie al fatto che possiamo vedere le varie caratteristiche. Sono abbastanza flessibili tra di loro. È chiaro che poi dipende un po' dallo stile di gioco del giocatore, ma la tattica che si utilizza sul campo la farà padrona e vi lascia... Cioè, vincere o perdere non è un discorso di meri numeri. Non basta costruire 100 genieri per vincere. Dovete anche disporli bene, ad esempio, non come sto facendo io, perché vedete che qui tirano in pochi, visto che li ho impostati male. E il fatto che ci siano scenari che siano guidati da una storia a me fa impazzire, perché, vabbè, questa è una mia opinione personale. Poi, magari, nei commenti vi faccio questa domanda, cioè, quanto è importante per voi la storia in uno strategico? Per me è molto, e vedere che c'è intrattenimento con un po' di senso dell'umorismo da parte dei personaggi. Questo sottile sarcasmo che ci fa capire che, insomma, gli umani... Gli insetti fanno molto schifo, ma non è che gli umani siano uno stinco di santo, come si suol dire, perché sono qui per devastare l'ecosistema del pianeta con le miniere e gli insettoni si sono svegliati perché erano i primi abitanti di questo pianeta. Insomma, tutte queste cose messe insieme mi fanno pensare che il titolo sia davvero degno di un interesse e di un approfondimento, ragione per cui io vi dico subito mettete duemila bei like così facciamo partire la serie e ce la facciamo la campagna. Magari usiamo l'estate per farcela tutta, perché no? A me non dispiacerebbe, però voglio vedere il vostro supporto. Prima di salutarvi colgo l'occasione ancora per ringraziare Slithering che mi ha fornito la chiave di questo gioco in grande anteprima. Io ovviamente ho dannato l'anima al buon Paolo di Slithering perché volevo avere accesso in anteprima a questo titolo perché mi piace tantissimo, l'ho aspettato a lungo e sono davvero felice di portare questo contenuto per loro e che dire, grazie, grazie ancora e spero spero che il pubblico comunque a sua volta apprezzi. Vediamo dei genieri qui dentro, voglio vedere se mandando i genieri il bug hive viene ripulito più in fretta e poi vi saluto. Signori, con questa bellissima e romantica visuale di un bug hive che viene praticamente bruciato io vi ringrazio, vi auguro una fantastica giornata o serata e vi do appuntamento al prossimo episodio. Teglio per ora è tutto. Alla prossima. Grazie. Grazie.